È già mercoledì 23 dicembre e mancano due soli giorni a Natale. Io sono Matteo e ti accompagno nella preghiera di oggi. Iniziamo questa giornata nel nome di Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Padre che sei nei cieli, apri la mia mente, le mie orecchie e il mio cuore per ascoltare la tua parola. Dal Vangelo secondo Matteo. Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce esorta. Dall'ora Gesù cominciò a predicare e a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. Che cosa abbiamo ascoltato? Matteo ci parla di quando Gesù che è già grande si mette in viaggio, inizia a camminare e dove va? Va in tutti i paesi, i villaggi, le città, per dire in fondo una cosa sola. Che cosa? Che un regno di pace e di amore è vicino a tutti ma esiste solo se apriamo il cuore a Dio e alle altre persone. Matteo ci dice che le parole e i gesti di Gesù assomigliavano a una luce che arrivava in mezzo alle tenebre e portava grande gioia a chi ci abitava. Il Natale si avvicina, le luci sono accese nelle vie della nostra città, delle nostre case e ora anche la tua tenda splende. Manca davvero poco al Natale. Preghiamo insieme. Padre nostro che hai creato la luce per vincere le tenebre, aiutaci a orientarci verso la tua luce. Signore Gesù che ci hai mostrato il che il regno dei cieli è vicino, fa che muoviamo i nostri passi verso il tuo regno. Spirito di Dio che soffi nei cuori dei piccoli e degli ultimi, aiutaci a scorgere la tua azione nelle nostre vite. L'impegno di oggi. Impegno non semplice. Siamo invitati oggi a capire quali sono le cose che ci distraggono e a cercare di evitarle. Perché? Per essere attenti e accorgersi di tutte le parole e dei gesti che hanno dentro la luce di Dio. Chiediamo a Dio che ci aiuti e preghiamo con la preghiera che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male. E benedica la nostra giornata, le nostre parole, i nostri gesti, Dio che è Padre e Figlio e Spirito Santo. E che sia una bella giornata e Buon Natale che si avvicina.